eccoci qui per un'altra puntata di economia in quark io sono alessandro di nicola e con me c'è veronica de romanis e giampaolo galli allora due sono i grandi temi del momento e sono il salario minimo e il reddito di cittadinanza su due temi sui quali le opposizioni si stanno alleando convergendo su per attaccare il governo c'è un gustoso articolo di mattia fettri in cui ricorda le parole di fuoco che zingaretti spese nei confronti del reddito di cittadinanza quando fu approvato da il governo giallo verde diciamo sostanzialmente era un attacco al vivere civile adesso invece l'eliminazione è un attacco al vivere civile ma comunque sia si cambia opinione anche se purtroppo non si spiega mai perché si cambia opinione allora su il punto nel quale l'opinione più drasticamente cambiata e cioè il reddito di cittadinanza magari ci facciamo fare qualche riflessione da veronica a te sì il reddito cittadinanza è tornato alla ribalta perché è arrivato l'SMS a coloro che il governo definisce occupabili ora è brutale non c'è dubbio ma non era totalmente inaspettato si sapeva che sarebbe successo ma soprattutto questo governo è stato eletto anche con il mandato di cambiare il reddito cittadinanza ma si poteva fare meglio di questo lo vedremo a breve allora questo reddito di cittadinanza eh non ha funzionato eh perché eh molte famiglie povere non l'hanno ricevuto e sono pochissimi quelli che hanno eh un lavoro grazie ai centri per l'impiego quindi andava riformato molto prima eh lo stesso governo Draghi eh aveva pensato di riformarlo ricordiamoci che eh il ministro del lavoro del governo Draghi Andrea Orlando aveva eh istituito una commissione preseduto da eh Chiara Saraceno con l'obiettivo proprio di fare delle proposte per riformarlo modificarlo migliorarlo ecco poi se andiamo a vedere il governo Draghi ha preso ben poco di queste eh di queste di queste proposte si dirà anche perché la maggioranza relativa e in quel momento ce l'aveva il movimento 5 Stelle sarebbe stato difficile avere il loro appoggio e smontare quella che è una una misura di bandiera però insomma ecco che la Meloni il governo Meloni si ritrova con una misura che va inevitabilmente cambiata per un motivo molto semplice perché eh si pone due obiettivi uno è la lotta alla povertà l'altro è la lotta alla disoccupazione che non sono sovrapponibili sono due cose diverse allora siccome è chiaro che si sapeva questo eh come mai sono state messe tutti e due stati mesi tutti e due obiettivi se andiamo a guardare proprio quando fu introdotto il reddito cittadinanza nella legge di bilancio duemila e diciannove proprio si si parla sia della lotta alla povertà sia quello che viene definito mobilità sociale per aumentare l'occupazione allora a mio avviso eh il motivo è eh semplice perché se tu fai una misura eh di lotta alla povertà beh le risorse dovresti prenderle da chi più ha e darle a chi ha meno ora Di Maio eh che all'epoca è stato il papà del del reddito cittadinanza si è sempre detto contrario a una sorta di patrimoniale e allora cosa cosa ha inventato cosa cosa ha introdotto proprio questa seconda gamba cioè la lotta all'occupazione in questo modo ha potuto raccontare che la misura si autofinanziava questa è la parola magica autofinanziamento cosa vuol dire eh lo ha spiegato Di Maio in tantissime interviste ma anche lo stesso conte cioè io do il reddito le persone trovano un lavoro questo farà ripartire la crescita con la crescita ci saranno maggiori entrate e quindi il reddito si può finanziare da solo e io lo posso quindi finanziare a debito e questo è esattamente quello che ha fatto il conte uno e ovviamente anche il conte due eh è chiaro che eh così non funziona bisogna trovare delle coperture certe e soprattutto strutturali quindi inevitabilmente se si vuole tenere in vita eh questo reddito cittadinanza bisognerà fare una spending review cioè trovare le coperture all'interno del del bilancio dello Stato e poi bisognerà distinguere tra la lotta all'occupazione e la lotta alla povertà quindi tutto quello che riguarda sia eh riformare i centri per l'impiego ma anche i servizi sociali di cui si parla eh davvero molto poco perché quello che vediamo nei dati è che i beneficiari del reddito eh dall'inizio della diciamo dall'introduzione del sussidio un settantacinque quasi ottanta per cento ancora lo riceve questo vuol dire che eh che povero resta povero e non è quello l'obiettivo della della misura e allora andrebbero fatte due misure completamente separato questo è il compito del governo Meloni perché come abbiamo detto eh non è stato fatto eh fino ad ora dai dei precedenti governi quindi eh da qualche parte bisognava iniziare forse come ho detto l'SMS non era eh l'ideale però è un inizio speriamo però che non ci si fermi a questo SMS. Grazie. Grazie. Oggi c'era anche una vignetta eh divertente di due persone che erano sedute uno diceva all'altro adesso arriverà un altro SMS sui reti di cittadinanza e quell'altro diceva beh io mi sono venduto il cellulare quindi è poveretto per l'appunto. E allora eh come misura di contrasto alla povertà alla povertà lavorativa c'è questa misura del salario minimo salario minimo che più o meno è stato eh concordato tra le opposizioni con nove euro però nove euro nove euro un po' tricchi eh perché non comprende tutti gli altri benefici che eh sono che si aggiungono al salario quindi in realtà poi diventa più alto di nove euro e in più è scritto in maniera cervellotica non si capisce bene eh come si applica come i contratti collettivi interagiscono eh Gianpaolo tu ne hai scritto abbondantemente sia sulla congruità eh e sia sulla cervelloticità quindi magari riassumi per chi ci ascolta quali sono i difetti principali della proposta delle opposizioni. Io non ho obiezioni a fissare un salario minimo per legge c'è in tantissimi paesi va fatto con grano salis magari sarebbe meglio farlo in via come dire sperimentale con un po' di gradualismo ma ho fortissime obiezioni alla proposta che hanno fatto le opposizioni che c'entra molto poco col salario minimo quasi nessuno se ne è accorto a quanto pare ma c'entra il il diciamo il nucleo della proposta è quella di applicare a tutti per legge per decreto i contratti collettivi nazionali di settore ehm stipulati dalle associazioni datoriali e dai sindacati comparativamente più rappresentativi quindi e eh questi contratti vanno applicati diciamo alle aziende in relazione al settore in cui effettivamente svolgono la loro attività quindi intanto ci deve essere un pianificatore centrale che decide che cosa sono i settori i 3.000 settori a teco dell'istat per caso e a quale settore appartiene a ogni azienda quindi l'IBM che è ancora considerata metalmeccanica ai fini del suo contratto dovrà andare da un'altra parte e migliaia di aziende dovranno cambiare settore che ovviamente è impensabile perché o è un beneficio per l'azienda o per il lavoratore quindi per l'uno o per l'altro la cosa è inaccettabile e poi come qualcuno deve stabilire i confini fra le associazioni e le federazioni associate a Confindustria e quelle a Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confiprese, Confapi, CNA eccetera eccetera e quanto sono rappresentativi non solo CGL e CISWIL ma UGL, CISAL, COBA, SCUB, ORSA eccetera eccetera ammesso e non concesso che tutto questo si possa risolvere il punto chiave è che la proposta si riferisce ed è il titolo dell'articolo 2 alla retribuzione complessiva sufficiente proporzionata alla quantità e la quantità del lavoro prestato quindi che è un concetto che sta nella Costituzione quindi si applica a tutti i livelli e a tutte le categorie di lavoratori quindi non è che si applica soltanto il minimo stabilito dal sindacato per quel determinato settore si applica a tutte le categorie quindi sostanzialmente gli altri sindacati sono esclusi diciamo per legge e diciamo Confindustria, CGL e CISWIL da d'ora in poi se passasse questa legge dormirebbero sonni tranquilli perché non avrebbero più bisogno di garantirsi il sostegno e il consenso dei propri iscritti. Oggi non è così naturalmente quindi naturalmente diciamo se non hanno più quella necessità di garantirsi di sostegno finirebbero per essere insomma delle organizzazioni più o meno paragovernative. Delle corporazioni. Esattamente il sistema della Camera dei Fasci delle Corporazioni qualcuno l'ha detto chiaramente. non è bolshevico ma è diciamo il suo asimmetrico come dire non è sovietico ma e poi io mi chiedo diciamo ma si applica anche ai quadri questa roba si applica ai dirigenti e che cosa ne facciamo di associazioni come Federmanager per esempio? spariscono tutte quindi in ogni caso diciamo il tema più complicato è chi stabilisce una volta che ce l'hai per legge ci deve essere una legge che stabilisce che cos'è un quadro, che cos'è un dirigente. Oggi le aziende fanno dirigenti chi gli pare. probabilmente poi questo entra nella contrattazione ma qui c'è il consenso fra le parti che gioca nella contrattazione collettiva oggi. Un domani invece tutto questo dovrà essere stabilito per legge perché vale l'erga omnes cioè quel contratto vale nei confronti di tutti i lavoratori. Insomma questa cosa credo che sia fondamentalmente diciamo una cosa che mi consola che probabilmente è inapplicabile perché una volta che si facesse sul serio ci sarebbe la rivolta. Non solo, intanto c'è un'azienda che non applicano il contratto nazionale, Stellantis naturalmente che ha rinnovato il suo contratto qualche mese fa è notoriamente fuori, ma ci sono tante altre aziende. Italo per esempio è entrato nel trasporto ferroviario perché applicava un contratto di commercio e non voleva applicare il contratto di settore di Federmeccanica, di Feder Trasporti. Perché non lo voleva applicare? Perché quello era il contratto dell'ex monopolista molto costoso delle ferrovie dello Stato e quindi Italo non sarebbe riuscito a entrare. Insomma, ripeto la cosa che mi consola, che forse tutta questa roba qui è inapplicabile, ci sarebbe una rivolta se dovesse davvero essere applicato, volendo fare un passo avanti bisogna dire che prima di stabilire l'erga omnes, cioè la validità nei confronti di tutti per legge bisogna stabilire dei criteri per la rappresentatività in azienda delle diverse associazioni sindacali e datoriali, ma questo non viene fatto e quindi mi sembra che sia una roba molto, ripeto, corporativa da un lato e probabilmente anche inapplicabile. Bene, da quanto ci avete detto Veronica e Giampaolo, possiamo concludere che in Italia più che l'ideologia potè l'incompetenza, come sempre. Quindi vi ringraziamo, ci vediamo la settimana prossima, vi salutiamo Alessandro De Nicola, Veronica De Romanis e Giampaolo Galli. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.